Continuano i lavori di potatura di circa 600 platani su Via Nomentana, un intervento di manutenzione che avrebbe dovuto concludersi a inizio febbraio e che ora inizia a creare disagi. Il problema grosso è la velocità con cui questi fanno le cose. In una giornata tagliano quattro piante. Il tratto interessato alle chiusure al traffico è quello tra Corso Trieste e Viale 21 Aprile, ralentamenti e tempi di percorrenza triplicati in uno snodo fondamentale della capitale, che oltretutto mettono in crisi residenti e commercianti. Non ha senso chiudere una parte che è stata già fatta e poi i negozianti li stanno uccidendo perché praticamente non passa più nessuno in questa strada. Sia il comune che questi dei lavori non collaborano a tenere un po' la situazione sotto controllo, se ne fregano, basta che chiudono tutto, però i problemi ce li abbiamo noi. Un ulteriore ritardo dei lavori potrebbe aggravare anche i problemi di viabilità e peggiorare l'inquinamento acustico già particolarmente elevato nella zona.